festa di san domenico e dei serpari a cocullo non mi è piaciuta perché finalmente ve lo spiego in questo video ciao a tutti ragazzi e bentornati su reptile nation ora se avete visto il precedente sapete che non mi è piaciuta in particolar modo la festa di cocullo vi ho detto che ve ne avrei parlato in un video cercherò di mantenere il più possibile un italiano forbito e quantomeno cercare di nascondere un'eventuale cadenza romana ma molto probabilmente questo video si va a far benedire ragazzi quindi sti cazzi oggi parliamo chiaro chiaro e conciso probabilmente ho sbagliato anche a pubblicare il rally in quel modo dicendo cocullo bocciata difatti sono stato massacrato nei commenti me ne sono state dette di tutti i colori e fortunatamente esiste la libertà di parola non per tutti perché quelli che mi hanno risposto li ho bloccati tutti i ragazzi perché io sapete faccio come cazzo mi pare sulla pagina quindi torti quelli bloccati chi vuole veramente sentire le mie motivazioni lo farà oggi innanzitutto ci tengo a precisare che è una mia opinione personale io non sono qui per dare giudizi è semplicemente quello che ho provato io sulla mia pelle ora sapete tutti quanti che io non sono il tipo bacchettone anzi chi mi conosce sa che la mia filosofia dello stressarne uno per educarne 100 sposa appieno quello che dovrebbe essere fatto a cucullo a cucullo scusate quindi non si tratta di animali in realtà non tutto si tratta di animali stressati o maltrattati non è stato particolarmente quello a farmi stranire se mi conoscete sapete anche che sono un tipo abbastanza permaloso ed impulsivo quindi se sento una cosa una determinata sensazione reagisco immediatamente e trovarmi male in un determinato posto per queste situazioni che ora vi spiegherò ha fatto sì che meno sono semplicemente andato immediatamente ora ero partito con le migliori intenzioni volevo fare dei bei video poi riflettendoci ho detto forse me la godo appieno di fatti ho lasciato gopro a casa telefono mai tirato fuori non me ne è potuto fregare di meno ho detto me la vivo e via poi la racconto non mandava neanche di fare riprese sinceramente quindi non ho documentato granché diciamo a parte forse il paneo con la birra non credo che vi interessi e anche a dirlo la prima cosa che mi ha infastidito è stata la gente io non sono qui per giudicare l'evento né tantomeno il rito religioso perché sapete sono un ateo convinto le uniche divinità per me sono i miei genitori quindi sti cavoli non esprimo giudizi va bene così non me ne frega niente del parcheggio degli stand a parte uno quindi io giudico esclusivamente anzi giudico do la mia opinione do la mia opinione esclusivamente per quello che riguarda l'argomento che sapete tratto i serpenti quello che mi ha dato fastidio in particolar modo è stato l'atteggiamento delle persone perché metà delle persone forse anche più che arrivavano a cucullo lo facevano per il semplice fatto di farsi una foto per fare la cosa strana come al solito non gliene poteva fregare una beata mazza né del rito religioso né dei serpenti perché ho visto quei poveri ragazzi con questi serpenti in mano girare facendo fare foto con questi animali cercando di dare spiegazioni anche sull'animale stesso completamente ignorati non da tutti ovviamente dalla maggior parte delle persone questo è quello che ho visto io non gliene poteva fregarti meno era solo la scusa per farsi la foto col serpente e tornare a casa e fare vedere la foto su facebook e vabbè diciamo che ci può stare perché comunque attira delle persone verso il nostro mondo e va bene anche sotto un certo punto di vista però diciamo che ma un po stranito non ho avuto modo di documentarmi sul fatto della reperibilità dei serpenti ovvero dove cazzo li avete presi questi serpenti ora potete dirmi quello che vi pare ma io che ne trovo tanti tanti e lo vedete ragazzi prelevare quella quantità di cerboni in natura come dite a un giorno prima dell'evento assolutamente impossibile quindi è stato fatto per giorni addietro e ok voi mi direte va bene sono stati stressati un po per farli conoscere alle persone e no il cazzo perché se vengono stressati 10 minuti 20 minuti un'ora per un video per un recupero o anche per farli conoscere è una cosa ma se li preleviamo in massa per giorni durante il periodo più importante dell'anno per loro che è il risveglio dalla bruma e l'accoppiamento che coincide esattamente adesso gli state facendo un danno con la pala di quelli che non finiscono più altro che liberiamo il giorno dopo si stopifero tutta quella mole di serpenti ragazzi fate un danno con la pala se veramente lo recuperate in natura cosa che io non credo assolutamente io sono convinto che questi animali vengano allevati ci siano dei permessi particolari per le persone lì che li allevano e poi li mostrano in fiera perché altrimenti gli animalisti dove sono quando io chiedo a gran voce di poter intervenire con associazioni cose per ripopolare per ripopolare addirittura proprio i cervoni qui in zona da me chiedo di poterli allevare per per ripopolare tutto quanto no non si può ragazzi se ne sbatte se ne sbattono tutti il cavolo perché come sapete i serpenti sono animali di serie di serie b quando invece si tratta di mobilitare una festa che attrae migliaia e migliaia di persone e quindi migliaia di questi tutto è concesso all'improvviso possono essere maltrattati animali possono essere tenuti giorni così a buffo per una fiera quando non potrebbero essere nemmeno maneggiati vengono portati in giro per la fiera per ore con temperature proibitivissime per loro perché sì i nostri serpenti sono abbastanza coriacei però con queste temperature anche un piccolo raffreddore per un serpente può diventare fatale quindi portarli e smanecciarli per ore in mezzo alla gente con quelle temperature è una gran cagata avrei preferito di più ci fossero più stand organizzati in maniera giusta fatta bene con dei terrari riscaldati in cui poter riporre l'animale far mostrarlo farlo toccare quello che volete la foto e tutto quanto ma almeno tenerlo al caldo rompono tanto il cavolo gli animalisti per le fiere in cui vendono gli animali con gli scartamenti le luci e tutto quanto qui qui decine 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 di serpenti sbatacchiati in giro per ore per giorni col freddo per giorni perché se è vero che li tirate fuori giorni prima dall'habitat naturale per giorni quindi non dite cazzate allora va tutto bene e io ripeto secondo me questi animali sono allevati perché non si spiega questa cosa e se anche fossero allevati la cosa mi disturba ancora di più perché quando vuoi fare del bene per questi animali vero non te lo fanno fare non ci sono i mezzi nessuno ti caga quando invece si tratta di muovere attività in cui ci girano i soldini va tutto bene in italia si può fare tutto e non mi non vi nascondete dietro la cosa che grazie a cucullo la gente si avvicina i serpenti perché le stesse persone che si sono fatte la foto il giorno dopo a casa se se lo trovano in giardino gli danno una palata era semplice mera curiosità ma che non li fa avvicinare assolutamente divertimento attrazione per i bambini quello che volete c'era uno stand del cacchio fatto bene si potevano fare mille stand dove si parlava proprio di questi serpenti si descrivevano si vendevano libri si raccoglievano donazioni per le per le forestali per tutto quello che cazzo volete e invece no uno stand misero buttato lì questi ragazzi che andavano in giro cercando di dare spiegazioni su questi animali di cui non fregava niente a nessuno bastava farsi le foto che che devo di che devo dire ga dai ma di che cazzo stiamo a parlare e poi tutto questo detto da me che io sapete sono uno dello stress per mostrarvelo per maneggiarlo perché mi piace rompergli le balle ma lo faccio in determinate condizioni se un animale è muta ci si cerca di non toccare se un animale appena mangiato non si tocca se ci sta nella stagione degli amori come vi ho mostrato con la vipera appena risvegliata dalla bruma proprio lì cazzo non la tocchi la lasci stare ci può stare i dieci minuti anche un'ora due di video quello che cazzo volete ma in condizioni di meteo come quelle con quel freddo tutto il giorno dai regà ma di che stiamo a parlare mo vabbè stresane uno ma li avete fatto avete fatto uno schifo avete fatto e nessuno dice niente ve nascondete dietro sta cosa che è così la gente si educa e curiosa si fanno le foto si avvicina la gente al mondo dei serpenti ma non dite cazzate lo stare a far solo per i sordi se fosse stato uno stand fatto bene la gente pensava solo a mangiare solo gli stand per mangiare cioè io pure mi so buttato su un panino sulla salsiccia dalla disperazione la cosa più schifosa che mi ha fatto proprio a capponare la pelle che lì ho detto no non me ne frega un cacchio guarda te vede 20 cervoni poracci buttati su una statua d'ensanto mentre attraversano tutta tutta la città non me ne può frega di meno è stata vedere un biacco tra l'altro bello melanico nelle mani di un ragazzo rincoglionito in una maniera che voi non voi non ci avete idea voi non ci avete idea vede un biacco l'animale più aggressivo più fiero che ci abbiamo in quelle condizioni ma proprio devastato psicologicamente ho detto basta io so che cazzo sono venuto a fa qui io pensavo di trovare gente che la pensa come me sul evitare stressarli pur dimostrare fa ok è tutto ma se poteva fa meglio si poteva fa tanto meglio io stesso non l'avrei trattati così quegli animali cazzo almeno due tre stand di informativa fatti bene qualche terrario dove poterli tenere al caldo pioveva pure ma dai e me chiedete perché non mi è piaciuta cucullo cucullo come cazzo si chiama ma di che devo parlare ma di che devo parlare ma veramente ho fatto bene ho fatto male a non fidarmi di chi mi sconsigliava amante dei serpenti di non andarci però pure lì mi sono trovato nella condizione di andare contro a quello che faccio sempre pure io cioè le spiego erpetologi non toccano i serpenti poi si ammazzano per fare foto voi lo sapete e li congelano tutte cazzate varie che non vi fanno vedere perché devono fare foto migliore poi se lo tocchi lo stressi gente che non lo tocca lo disturbi e tutto quanto io ragiono al contrario ho detto per una volta forse c'è una fie una festa in cui si ragiona come ragiono io da paura da ma vede era anni che lo volevo fa l'esperienza forse più brutta che potevo fa queste ovviamente sono tutte opinioni personali per me per come tratto questi animali per come mi rapporto con loro per quello che faccio e per quello che ho vissuto in quel momento quindi non dico che è una cosa giusta o sbagliata da fare non dico di non andare a cucullo assolutamente per quanto riguarda il rito religioso festa in sé per sé io non giudico non do opinioni perché non non sono in grado e non mi interessa farlo io parlo semplicemente per il discorso serpenti amanti dei serpenti e per voi che mi seguite per darvi un'idea di quello che che io ho vissuto ovviamente non è detto che sia così per tutti per carità perché magari su quei cento bambini che si sono fatti le foto alcuni veramente avranno apprezzato i serpenti e anche i genitori magari ci saranno avvicinati a questo mondo vincendo un po la paura come vi mostro sempre io ma il discorso è che mi sono reso conto che tutta sta baronda sta storia in realtà gira tutto intorno a questo poi se uno alza la voce provo a dire nel Lazio i cervoni ormai stanno sparendo a parte determinate zone è possibile organizzarsi con dei permessi per allevarli e ripopolare in alcune zone seguiti ovviamente dal corpo forestale e dagli enti preposti no perché non gliene frega un cazzo a nessuno perché nel Lazio non c'è una festa dove dimostrare i cervoni che attira migliaia di persone animalisti in fiere che non vedono l'ora di rompere il cavolo sugli animali esotici allevati regolarmente e tenuti bene benissimo dalle persone che li allevano sul piede di guerra pronti alla grande come sempre in una festa dove ci sono animali tenuti in temperature proibitissime in modo che veramente da far accapponare la pelle per chissà come si allevano i serpenti spariti spariti perché non può andare a romper cavolo a una festa del genere no? che è che vai a romper cavolo a una festa del genere solo quel casello per vedere tutte le persone che so passate quel giorno se sai sordi che ha fatto ma di che stiamo a parlare dai quindi se niente non riesco a stare calmo come avete visto il mio italiano forbito che conoscete benissimo e la mia cadenza tipica romana che nascondo benissimo fra l'altro si è andata a far benedire mi dispiace ragazzi per il video di cacca che vi sto mostrando ma questo è quindi se volete sapere cosa cosa ho pensato provato e passato a cucullo la mia è stata un'esperienza negativa ripeto è la mia è stata un'esperienza negativa per me punto io il discorso serpenti e la loro salvaguardia la cerco di affrontarla in modo diverso simile perché anche io li stresso per mostrarli per farli conoscere tutto ma diverso spero venga fatta chiarezza anche su questa cosa perché non ho capito se veramente questi animali vengono allevati oppure prelevati e in ogni caso sono due situazioni di merda che a me non piacciono uno perché se girano i soldi puoi fare quello che ti pare anche allevarli come al solito ma perché è una festa che attira gente e soldi non per mostrarli perché altrimenti avresti organizzato la cosa fatta bene con degli stand veri più di uno con delle esposizioni con dei terrari dove tenerli con delle raccorte fondi per la zoofila per la guardia forestale e quant'altro ci sarebbe potuto star da parlare per ore no quattro foto dentro un museo e due se li vai a prendere in natura gli fai un danno con la pala perché nella stagione degli amori appena risvegliati dalla bruma dai ragazzi ma veramente veramente è stata fa ma veramente mi parlate a me come se tiene un serpente come come stanno i serpenti in determinate situazioni e non se prendiamo in giro non se prendiamo in giro la mia calma si è andata a far benedire con questo video pensavo di fare un video calmissimo in cui vi raccontavo tutto invece vabbè ora sapete come la penso è quello che ho vissuto con la festa di cucurlo io come sempre spero che il video vi sia piaciuto in realtà avete visto un video dove semplicemente sbroccavo stavolta però ci tenevate a sapere me l'avete chiesto in tanti cosa ho provato e questo è quello che ho provato io che piaccia oppure no la libertà di parola c'è per me soprattutto perché chi commenta cose che non mi piacciono come sapete lo blocco quindi non me ne può fregar di meno e questo è ragazzi io non vi dico di non andare assolutamente anzi andate e valutate voi ditemi cosa provate quello che ne pensate se vi trovate con qualcosa che ho detto oppure no ognuno è libero di pensarla come vuole di dire la sua non sulla pagina perché io faccio come cazzo mi fare vi blocco però questo è quindi se volete sapere cosa ne pensavo io questo ragazzi noi ci vediamo alla prossima sono impegnatissimo con lavoro ultimamente quindi sto girando poco però a breve vi mostrerò svariate cose mi raccomando lasciate like seguite like qui seguite la pagina condividete tutte le solite cose insomma dai esplodiamo così come stiamo facendo che stiamo andando alla grande ciao ciao